La storia d'amore tra Patrick Cutrone e il Milan continua, e lo farà anche a lungo. Tando a quanto riporta Sky Sport, infatti, i rappresentanti dell'attaccante e la dirigenza rosso-nera hanno raggiunto l'accordo per il prolungamento contrattuale. Nei prossimi giorni, il Baby Bomber firmerà l'estensione sino al 30 giugno 2023. Il tutto senza alcuna clausola recissoria e con uno stipendio da 1,1 milioni di euro a stagione, ma a salire. Una buona notizia per tutti i tifosi del Milan e quindi per lo stesso Cutrone, autentico cuore rosso-nero in forza al diavolo sin dal 2007. Entrato nel settore giovanile a 8 anni, non ha mai lasciato la squadra per cui tifa, completando la trafila fino al debutto in serie dello scorso 21 maggio. 38 presenze ufficiali e 15 gol dopo, Cutrone è arrivato anche in nazionale maggiore, ma la settimana magica del centroavanti non è destinata a finire qui. Dalla notizia del rinnovo contrattuale all'amichevole con l'Argentina di venerdì prossimo, la strada è ancora lunga. Video di viaggio, Verratti sarà importante per la nazionale, ma deve fare di più. Cutrone, ha entusiasmo.